youtubers come da tradizione ad ogni ad ogni sosta parlo così da un'occhiata agli altri youtubers è bellissimo ragazzi è bellissimo dove lo giri giri lui cambia colore in qualsiasi modo tu lo giri lui cambia colore questo è un cubo impressionante comunque non è questo l'argomento diciamo l'argomento sono gli youtubers stavo dando un'occhiata a chi è chi sta andando verso l'alto chi sta andando verso il basso non voglio parlare di chi sta andando verso il basso parliamo un attimo di questi youtubers che stanno un po incominciando a montare a montare a montare alcuni li conoscete tutti dovuto se siete qua è perché vi piace seguire gli youtuber che parlano di calcio perché non è che seguite solo me seguite ovviamente anche tutti gli altri o quantomeno parte di tutti gli altri mi sono fatto un'idea di quello che sta succedendo innanzitutto fra le tante cose ma quelli della juventus ma perché fanno sempre dissing perché litigano sempre ma ci avete fatto caso cioè quelli della juventus ogni volta che du cojon sempre che litigano fra di loro qualche volta quelli dell'inter quasi mai quelli del milan io dissing fra gente del milan ne vedo poco rispetto a quello della juventus che praticamente ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ve lo faccio rivedere per chi lo vuole rivedere ragazzi che incredibile pensavo, allora innanzitutto dovrei parlare col mio amico di Tifosiamo Stefano praticamente il ragazzo, la persona, l'uomo dietro Tifosiamo perché lui li conosce tutti, una volta ho fatto una live con Tifosiamo e parlavamo appunto di tutti questi youtubers perché davvero lui li conosce tutti, ci sono anche quelli che hanno solo 50 iscritti, 70 iscritti e lui li conosce, lui sa bene o male molto più di me perché ovviamente non è che seguo, faccio il suo college quindi Tifosiamo è quello che sicuramente andrà in orbita avrà sempre 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 più iscritti ormai ho un'abitudine, ogni volta che c'è un big match o un match importante che finisce uno si va a guardare questi college di quello che dicono gli altri perché lui tira fuori il meglio, lui mi ha detto io non solo tiro fuori il meglio ma il punto è dare punto di vista a diversi tipi di tifosi perché se io do il punto di vista solo ai tifosi come te o come quello o come quelle sono tutti uguali, non ha senso, devono essere diversi e questo in effetti ha tutto un'idea è come quando va allo stadio, ci trovi l'avvocato famoso e ci trovi quello che vende noccioline ci trovi tutti i tipi di persone e così è per quanto riguarda i video per quanto riguarda questi youtuber a me sto vedendo che per esempio per l'Inter sta crescendo questo gruppo gli esonerati non lo seguo tanto, però fanno molte live stanno crescendo, devo dire che stanno crescendo per la Juventus ogni volta che vado a guardare la Juventus litigano litigano, litigano sempre, sempre, sempre però quello che si segue, che comunque cresce che sta cambiando un po' anche ha fatto la Nati Arena se cosa è qua è Nati per vincere Nati per vincere è quello che effettivamente un po' secondo me farà iscritti perché io riesco a vedere chi fa iscritti che ha gli iscritti così e così ma lasciamo stare quello e quindi vedo chi è in salita chi è in salita sono questi super giù Milan è lo zuccolaccio Zuccoloduro sta facendo molto bene e dopo il mio amico Marietto Tribù Rosso Nera sta crescendo, attenzione fanno belle live, lunedì, comunque anche altri giorni Marietto con Tribù Rosso Nera ve lo consiglio di andare a dare un'occhiata per quanto riguarda la Roma che è un mondo che a me piace quello degli youtubers della Roma perché sono belli pugnaci, veraci allora abbiamo Simoncigno che io mi sono stupito Simoncigno lo vedete sempre su Tivo Siamo quando si tratta della Roma io mi sembrava più piccolo se ho capito bene, se ho letto bene la chat su Tivo Siamo questo ragazzo ha 17 anni e comunque sta crescendo il canale sta crescendo eccetera eccetera e dopo malato del Napoli ragazzi allora sta succedendo una cosa praticamente alcuni di questi da Youtube stanno esondando verso TikTok molti dei video cioè uno fa i video su Youtube e dopo va a finire su TikTok e quello fra di tutti che più di tutti va a finire su TikTok in questo momento è malato del Napoli lo vedete spesso 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 su TikTok quindi sta aumentando davvero sta aumentando la sua piattaforma diciamo di social questo sicuramente perché già ovviamente è conosciuto ha tanti iscritti quando c'è il Napoli in mezzo uno se lo può guardare adesso parla anche della Juve delle altre squadre eccetera eccetera però su TikTok lo vedo sempre lo vedo sempre là e siamo in periodo di sosta quindi uno fa queste cose così questi pensieri così eccetera eccetera tutti quelli di cui ho parlato secondo me cresceranno a livello di di iscritti e io lo auguro se a loro vi piace ovviamente tutta persona è capaci detto questo ragazzi siamo in sosta io vi faccio rivedere la bellezza unica di avere una cosa del genere allora vediamo se ci riesco lo vedete che ha questi tre colori che sono i colori della stampante sono i colori della stampante giusto però cosa succede che quando io lo sposto così lui cambia questi colori se io lo sposto così diciamo lentamente riuscirà a vedere che i colori sono quelli però se io incomincio a fare così lui ogni volta che sposta ti dà dei colori diversi ciao 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 ragazzi a proposito ditemi ditemi quali sono i vostri youtuber quelli che secondo voi cresceranno tutta questa situazione qua ciao ragazzi ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti